Oh ragazzi, notizia importante, fate girare. Quando io gli dicevo che sono tutti gatekeeper, quelli che stanno in politica e votare non serve a niente, guardate questa notizia. Sicilia, Francesca Donato, ve la ricordate? Quella non Europa, eccetera, eccetera, con chi si è messa, con Cufaro, che con chi sta insieme, con Renzi, con Renzi, con Renzi e Labonino, tutti insieme, la mucchiata per le europee. Cosa serve? Ma che valori hanno? La Donato e Renzi, che valori hanno? Uno pro Europa, l'altra contro Europa a parole, vuole solo il posto e la poltroncina, perché valori non ne hanno nessuno. Io l'ho sempre detto, andate a vedere i video vecchio, che non mi piaceva per niente la Donato e chi c'ha ragione? Ditelo, ditelo cazzoni, ditelo!